Benvenuti in questo nostro nuovo video. Oggi torniamo a parlare del creo di imposta per investimenti nel mezzogiorno. Come ben sappiamo la legge di bilancio 2023 ha disposto la proroga per tutto il 2023 del creo di imposta per investimenti nel mezzogiorno, nelle zone economiche speciali, nelle zone logistiche semplificate. Le domande possono essere inviate ormai già dall'8 giugno 2023, la chiusura dell'inoltro è fissata al 31 12 2024 e la trasmissione avviene attraverso il nuovo modello CIM 23. Ora per quanto riguarda il creo di imposta per investimenti nel mezzogiorno, il progetto investimento oggetto di beneficio fiscale deve afferire ad una struttura produttiva localizzata nelle seguenti regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Ovviamente deve essere finalizzato alternativamente alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di un stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente, ovvero al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. I crediti di imposta si calcolano applicando l'investimento ammissibile determinate percentuali. Il tetto massimo degli investimenti è per le piccole imprese 3 milioni, per le medie imprese 10 milioni e per le grandi imprese 15 milioni. Le percentuali sono le seguenti, per quanto riguarda le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, le aliquote sono il 45% per le piccole imprese, il 35% per le medie e il 25% per le grandi. Per quanto riguarda invece Abruzzo e Molise, le percentuali sono 30% per le piccole imprese, 20% per le medie imprese, 10% per le grandi imprese, con la specifica che in Molise per i beni acquisiti per tutto il 2022 e fino al 31-12-2023 le percentuali sono pari a quelle spettanti alle altre regioni precedentemente menzionate. Ovviamente è preciso che l'utilizzo del beneficio fiscale avviene, come sappiamo, in compensazione, a partire per quanto riguarda appunto il bonus sud, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta autorizzativa da parte dell'Agenzia delle Entrate, mediante una fruizione che può essere anche suddivisa in più soluzioni annuali senza alcun limite quantitativo e fermo restando ovviamente gli importi riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate attraverso appunto l'apposita ricevuta autorizzativa. Bene, detto questo, un aspetto degno di approfondimento riguarda la corretta individuazione della struttura produttiva a cui connettere il crudo imposta per investimenti al mezzogiorno. Da questo punto di vista l'Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti attraverso le risposte ad interpello numero 68 e 69 del 3 febbraio 2022. Nel dettaglio per struttura produttiva deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento e in questa definizione vi rientrano un autonomo ramo d'azienda, un'autonoma diramazione territoriale d'azienda, una linea di produzione ovvero un reparto. Quindi questa unità locale deve rispondere a determinati requisiti, deve essere ubicata nei territori richiamati dalla normativa in cui ovviamente il beneficiario esercita l'attività d'impresa, deve essere dotata di autonomia organizzativa, deve costituire un centro autonomo di imputazioni di costi e non da ultimo non deve rappresentare parte integrante del processo produttivo dell'unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale. Questi quindi i parametri fondamentali da tenere presente per identificare in maniera corretta la struttura produttiva cui ricondurre il beneficio fiscale del credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno. Io vi ringrazio come di consueto e ci vediamo al prossimo appuntamento.